Due fratelli già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati dai carabinieri perché presunti responsabili di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento. Sette involucri contenenti hashish del peso di 19,3 grammi, 11 panetti termosaldati contenenti hashish del peso di 1,23 chilogrammi ed ancora 16 proiettili calibro 7,65 trovati in possesso dei due uomini di 34 e 29 anni di San Marzano di San Giuseppe. Ad operare è stato il nucleo investigativo del reperto operativo del comando provinciale carabinieri di Taranto con i colleghi di San Marzano e del nucleo cinofili di Modugno. I due fratelli sono stati rinchiusi nel carcere di Taranto. Altri due arresti in regime di domiciliari da parte dei carabinieri anche alla terza. Un 19enne ed un 26enne del posto trovati in possesso dopo perquisizione domiciliare di 173,5 grammi di marijuana e 7,5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Ritenuti presunti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. L'intero quantitativo della droga è stato posto sotto sequestro ed inviato al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Taranto.